Siamo alla terz'ultima conferenza della terza edizione di Festa di Scienza e di Filosofia, virtude e canoscenza. A tenerla sarà il professor Eugenio Coccia, un fisico delle particelle, che ha ricoperto il ragione delle sue ricerche e del suo contributo dato allo sviluppo della fisica moderna anche importanti incarichi nella direzione di istituti scientifici di primo piano. In particolare, fino al 2009, mi sembra, era direttore del più grande laboratorio sotterraneo del mondo che sono i lavoratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ora, il professor Coccia, sulla base di un possente e poteroso lavoro di ricerca scientifica e anche sulla base di una sopraffina azione di cuscitura di fatti amministrativi legali e finanziari riguardanti finanziamenti europei, finanziamenti nazionali, riferite a una zona che è stata colpita come noi e dal terremoto, cioè quella dell'Aquila, è riuscito, ripeto, con il concorso di molti, fra cui per esempio il ministro Barca, molto abile nel costruire e nel divanare questioni che riguardano un problema molto presente in Italia, come è l'uso dei finanziamenti europei, è riuscito a dipanare la possibilità di realizzare nell'Aquila una sorta di università, una sorta di scuola normale superiore, di sissa, cioè l'Istituto di Scienze dell'Aquila, che credo inizierà a lavorare prossimamente. Il professor Coccia mi diceva di aver ricevuto l'incarico o l'assegnazione del palazzo. Si tratta quindi di una nuova possibilità di studio per i giovani italiani, potranno studiare in questo istituto coloro che intendono acquisire diplomi di laurea, appunto, successivi, diplomi successivi alla laurea, dottorati di ricerca nel ventaglio delle discipline scientifiche. Quindi, ancora una volta, a festa di scienza e filosofia, una presenza scientifica di primo piano, livello nazionale e non solo nazionale, perché è evidente che la cosa che vi ho citato per ultima o ha una rispondenza nell'ambito della ricerca europea e mondiale oppure non è. Per fare un esempio di ciò di cui si tratta, il professor Rubbia, che tutti noi credo conosciamo, farà parte dello staff di questo centro. Ecco, quindi questo è ciò di cui si parla. Io ringrazio Eugenio Coccia perché è la seconda volta che sta con noi. Quando fa le conferenze con i ragazzi le sale sono sempre cremite, come mi pare sta accadendo del resto anche questa sera, a testimonianza della sua presa quando parla. ha uno stile molto asciutto, molto stringato, essenziale, molto chiaro. Ho studiato bene, Eugenio? Ho studiato abbastanza. E quindi credo che sia giusto dargli la parola. Io mi scuso con lui e con voi se non potrò assistere a tutta la conferenza, ma capite bene che in questi momenti c'è da fare l'ultimo sforzo. Grazie, professor Coccia. Buona conferenza e buona conferenza, così come a voi. Ringrazio naturalmente Pierluigi Mingarelli della presentazione. Lo stile asciutto di cui ha parlato a questo punto mi costringe a non perdermi in freamboli e a partire subito con questa presentazione. Il titolo l'ho voluto volontariamente, un po' accattivante, per cercare di catturare un po' la curiosità. Infatti, che c'entra Darwin con Ponte Corvo, mentre i neutrini con Ponte Corvo c'entrano, ma questo probabilmente è già forse più noto, ma ne parleremo naturalmente in questa conferenza. Ma come spesso succede, come dire, il titolo, e in fondo anche questa conferenza, è una scusa per parlare un po' di scienza. Per parlare, volevo dire, ecco, vorrei dire che se ci fosse un tema di fondo, in questa nostra chiacchierata di adesso, il tema è qual è il nostro posto nell'universo. È una bella domanda, uno può farsi diverse lucubrazioni su questo, probabilmente rimanere alla fine con le stesse domande da cui si è partiti, però con qualche consapevolezza in più, diciamo, e anche, spero, con qualche stimolo, come si dice, a ulteriori lettore. Allora, appunto, partendo, mi piace partire da questa foto, che ho fatto vedere anche nell'altra mia conferenza di ieri, e cioè questa è una foto presa dal telescopio Hubble, è un ampio campo di galassie, queste isole nel vuoto sono miliardi le galassie, sono, ognuna ha miliardi di stelle, la stella più vicina a noi è il nostro sole, la osserviamo da abbastanza vicino. Ecco, la parola osservare ha diverse accezioni, no? Perché osservare implica osservare con gli occhi, questo, diciamo, quasi naturalmente uno ha questa sensazione. Ecco, il sole noi non lo osserviamo solo con gli occhi, ma con degli strumenti anche molto più sofisticati. E, come diceva il piccolo principe, spesso l'essenziale è invisibile agli occhi, e nel caso del sole è davvero così. E vedremo adesso perché. Prendo il sole come esempio, diciamo, come esempio di questa nostra, come primo esempio di questa checchierata, come primo passo, direi, perché brilla il sole? Naturalmente altre domande che la scienza si pone, è di cosa è fatta la materia, quindi anche di cosa è fatto il sole, cosa c'è nell'universo, qual è la sua origine e il suo destino. Naturalmente in questa conferenza, se io rispondessi in maniera soddisfacente a tutte queste domande, probabilmente dovrei fare il santone di qualche setta, invece, diciamo, non è una risposta completa quella che diamo, però su ognuna di queste domande andiamo a, come dire, a stuzzicare un po' la nostra conoscenza. Allora, facciamo una domanda precisa. Quanti anni ha il sole? E quindi questa domanda è legata naturalmente anche a un'altra, cioè quanto è vecchia la vita sulla Terra? Da quanto tempo ha avuto i primi organismi per potersi evolvere? Voi sapete che quest'uomo, Charles Darwin, ha formulato la teoria dell'evoluzione che implica che c'è stato un lungo tempo per passare tramite mutazioni che l'ambiente poi decideva se erano favorevoli o no, diversificare tutte le specie viventi fino in uno di questi rami ad arrivare all'uomo. Naturalmente per questa sua teoria, che era stata formulata, siamo diciamo a metà dell'Ottocento, Darwin aveva bisogno che la vita sulla Terra fosse molto vecchia. Quindi il sole doveva stare lì a brillare da tantissimo tempo. Questo era essenziale perché lui stesso si rendeva conto che non si passa dalle specie più semplici a quelle più complesse in poco tempo. Ci volevano, secondo lui, miliardi di anni, miliardi di anni. E lui stimava quindi, come età necessaria, almeno un miliardo, diciamo, almeno un miliardo di anni. Quindi il sole doveva stare lì a brillare da almeno un miliardo di anni. La qualcosa non era affatto ovvia, specie a metà dell'Ottocento. Naturalmente doveva anche immaginare che moltissima gente, dando un'interpretazione letterale alle Sacre Scritture, faceva il conto delle generazioni, così come sono scritte, tra l'altro, e veniva fuori che da quando Dio ha detto il Fiat Lux fino a metà dell'Ottocento, ma ci saranno state forse poche migliaia di anni, decine di migliaia di anni, contando le generazioni. Quindi il fatto che questo uomo tirisse fuori una teoria che per molti era molto, come dire, irritante, e dicesse che ovviamente una condizione perché la teoria fosse presentabile era che la Terra avesse almeno un miliardo di anni, destava, come dire, moltissimi dubbi. Questi dubbi non erano solamente, diciamo, di persone che leggevano in quello che Darwin scriveva, un contrasto con quello che c'era scritto nella Bibbia, ma anche da altri scienziati contemporanei, anche scienziati di grandissima autorevolezza. Uno di questi è Lord Kelvin. Lord Kelvin disse, ma vediamo un po', qual è l'energia a disposizione del Sole? Voi sapete che se sapete quanto vale il voltaggio di una batteria e sapete quanto consuma il vostro computer, sapete anche quanto durerà il computer acceso, dopodiché dovete ricaricarlo, va bene? Ecco, questo è un po' il conto che fece Kelvin. Lui disse, ma l'energia a disposizione del Sole è la sua energia gravitazionale. Quest'energia gravitazionale preme, perché la gravità non fa altro che premere verso un volume sempre più piccolo questa massa di gas che è il Sole, questa pressione fa in modo tale che la temperatura all'interno si accresca moltissimo e il Sole si accende. Si accende più o meno, il meccanismo poteva essere quello per cui brilla, non so, un pezzo di ferro quando è molto caldo. Questa è quella luce intensa che può emettere anche un ferro quando lo mettete sul fuoco, per esempio. Quindi un meccanismo per cui la batteria a disposizione era la massa del Sole, con la sua dimensione. La luminosità del Sole noi la conosciamo. Questa luminosità L, e cioè l'energia al secondo, la possiamo misurare perché possiamo vedere quanto si scalda un oggetto esposto al Sole. Quindi sapendo quant'è la massa del Sole, quant'è, diciamo, la costante di gravitazione universale, quant'è il raggio del Sole, e dividendo questo per la luminosità, si ottiene un tempo. Questo tempo è come dire quanto tempo questa batteria del Sole può durare. E questa batteria può durare 30 milioni di anni. Questo è il calcolo di Kelvin. Quindi il miliardo di anni Darwin se lo poteva scordare. Naturalmente l'autorevolezza di Kelvin era tale per cui lo stesso Darwin dubitò della sua teoria. E disse, accidenti, se lo dice Lord Kelvin, qua effettivamente, anche perché il calcolo è semplicissimo, questa è un'energia, Gm su R, L è un'energia al secondo, su tempo, quindi qui c'è un tempo. Questa è l'unica formula che farò vedere in questa conferenza, quindi non... non abbiate paura di matematiche, diciamo, più complicate di questa. E questa volta di 30 milioni di anni, a questo punto, ovviamente tutti quelli che contrastavano Darwin erano contentissimi. Oddio, 30 milioni di anni, non è che sia poco, eh, voglio dire. Però certamente per Darwin un'età così era troppo breve per poter dare modo alla vita sulla Terra di avere questa evoluzione. Allora, come si è risolto questa polemica scientifica, anche molto accesa, perché metteva in ballo non solo, diciamo, credenze di tipo appunto filosofico, scientifico, ma anche credenze di tipo religioso. Sappiamo oggi che l'età del Sole è 4,6 miliardi di anni e sappiamo anche che il Sole è circa a metà della sua vita. Allora, Lord Kelvin aveva sbagliato. E com'è possibile che un fisico così rinomato, uno scienziato di quel valore, sbagliasse a fare il conto? E il conto non era sbagliato, questa è la verità. E che allora, quando Lord Kelvin fece questo calcolo, l'unica forma di energia che era concepibile il Sole potesse mettere in gioco per brillare, era l'energia gravitazionale. Non sapeva Lord Kelvin, né lo sapeva Darwin, ma non lo sapeva nessuno, che in realtà nel Sole c'è una batteria che è molto più potente. c'è una dura, c'è diciamo così, che dura molto molto di più e che è in grado di far brillare il Sole per, diciamo, all'incirca 10 miliardi di anni. Questa fonte di energia dentro al Sole è l'energia nucleare. Questo all'epoca non si sapeva, non si conosceva la struttura della materia nel dettaglio, non si sapeva che il meccanismo grazie al quale funziona la fusione termonucleare è quella che è vero, che la gravità spinge, la pressione al centro del Sole sale, la temperatura sale moltissimo. La temperatura non è altro che l'energia cinetica, cioè l'energia del movimento. Quindi più cresce la temperatura, il che vuol dire che più cresce la velocità. Allora, che cosa succede? Da questi protoni, che sono i nuclei dell'atomo di idrogeno, il più semplice materiale che esista nell'universo, che cosa succede a questi protoni quando vanno velocissimi? Succede qualcosa che può succedere solo se portiamo questo gas di protoni a miliardi di gradi. succede che i due protoni riescono a vincere la repulsione elettrostatica, essendo due protoni hanno lo stesso segno di carica elettrica e quindi tendono a respingersi, non tendono a unirsi, meno che mai, ma portati a temperature così alte, riescono ad arrivare, ad avvicinarsi così tanto da e fare entrare in campo una forza che è una forza che entra in campo solo quando i protoni arrivano praticamente a toccarsi. Questa forza si chiama la forza nucleare forte. È attrattiva, anche lei, come la gravità, ma mentre la gravità agisce a distanze anche molto grandi, questa non esiste quando i due oggetti sono a distanza, quando le due cariche elettriche sono a distanze molto grandi, agisce solo quando le due cariche elettriche arrivano a essere vicine, milionesimi di miliardesimo di metro vicine, quindi quasi a toccarsi intendo esprimere così il concetto. E solo quindi quella velocità così alta riesce a farli avvicinare tanto, altrimenti quelle si respingono ben prima di avvicinarsi, ma quelle velocità così alte arrivano a toccarsi quasi. A quel punto si fondono, entra in campo questa forza attrattiva che è la fusione nucleare, che è la forza nucleare forte che li fa fondere due protoni, liberando energia. Ecco, questa liberazione di energia, conseguenza della fusione dei protoni, è l'energia che noi riceviamo dal Sole. La riceviamo come luce, come sappiamo. Non solo luce visibile, sappiamo che è uno spettro luminoso che va al di là di quello che noi vediamo, c'è l'infrarosso, l'ultravioletto, quindi sappiamo che c'è luce a frequenze anche al di là di quelle che noi possiamo distinguere, dal viola al rosso. Ed è il centro del Sole dove avviene questo processo. Ma non è tutto perché in che modo viene liberata questa energia? Quanta energia viene liberata? Allora voi, tutti quanti conosciamo questo uomo che faccio entrare in campo perché, diciamo, ne sono un appassionato, Albert Einstein che la rivista Time dichiarò come persona del secolo alla fine appunto del secolo scorso, non fisico del secolo, scienziato, ma persona del secolo addirittura. Naturalmente, se voi volete valutare quanta energia si libera in queste reazioni, è molto facile, se lo si calcola dalla relazione E uguale a mc². Infatti, se voi prendete quattro nuclei di etogeno, cioè quattro protoni, li fondete insieme, formate un nucleo di elio, in cui tra l'altro nel frattempo due protoni diventano due neutroni, ma sostanzialmente è la differenza di massa che c'è fra queste quattro particelle quando sono separate rispetto a queste quattro particelle quando sono unite, sono più leggere quando sono unite, l'energia, la differenza fra queste due energie è l'energia di legame che viene liberata dalla fusione. Questa energia è un'energia sostanzialmente abbastanza grande, la teoria completa fu fatta solamente da Bethe nel 1939, quindi si forma dalla fusione dei nuclei di idrogeno, si forma l'elio, che è l'elemento successivo all'idrogeno, più esce fuori questa letterina gamma, è tutta la reazione luminosa che noi riceviamo, quella che ci brucia d'estate quando siamo sulla spiaggia, e poi c'è questa particella, questa particella, il neutrino, se ne sta lì buona buona, sembra che non abbia un ruolo, sembra che non si vede, non si sente, invece è fondamentale. se non esistesse questa particella, se questa particella, cioè non portasse via un po' di energia da questa reazione nucleare, la portasse via e la mandasse via sotto forma di una luce, quella dei neutrini, che non vediamo, che è invisibile agli occhi, ma che è essenziale, perché è grazie a questa luce che esce che il sole riesce a non bruciarci e a illuminarci in maniera tiepida, altrimenti ci brucerebbe immediatamente. Questi neutrini che escono fuori, escono fuori come conseguenza delle reazioni nucleari, le trasformazioni di neutroni in protoni tirano fuori questi neutrini, o antineutrini che siano, e quindi per essere sicuri di questo che ho detto, e cioè che il sole ci illumina, si accende grazie alla fusione termonucleare, noi dobbiamo misurare i neutrini. Voglio dire che se aveva ragione Kelvin, e quindi che il meccanismo fosse solamente il fatto che si accendeva, perché si accendeva come un pezzo di ferro che si riscalda, voglio dire, a questo punto sarebbero usciti solo i fotoni, solo la luce sarebbe uscita fuori, ma non anche i neutrini. I neutrini sono un fenomeno che è esclusivamente nucleare, e quindi la loro rivelazione, se noi riuscissimo a misurare i neutrini che vengono fuori dal sole, allora saremmo sicuri che il sole funziona in questo modo. E quindi è una cosa importante sapere come funziona la nostra stella, sapere qual è il meccanismo con cui la stella ci dà vita e luce. Quindi la conseguenza di questo, che oggi noi sappiamo, e farò vedere tra poco come l'abbiamo scoperto, il sole brilla sia di luce che di neutrini. E i neutrini, come dico, vengono dal nucleo centrale, voi pensate che la luce emessa dal nucleo centrale rimbalza talmente tante volte, prima di arrivare alla superficie, di arrivare a noi, da impiegarci migliaia di anni. Cioè la luce che noi vediamo oggi, del sole, è stata generata al suo interno migliaia di anni fa. I neutrini no. I neutrini hanno questa caratteristica, sono neutri, come dice la parola, di uscirsene senza praticamente interagire. Così come nascono, arrivano a noi. Direttamente dal nucleo, direttamente dal motore solare. Ecco perché, mentre la luce che vediamo, sapete quando vedete un'automobile, una Ferrari, la vedete rossa, ma la vedete rossa, quello vi dice il colore della superficie, non vi dice niente sul motore. Il motore lo sentite, se lo fate rombare, diciamo così. Quindi se avete un segnale da dentro, ecco, i neutrini sono questo segnale, che ci dice il rombo del motore nucleare, del motore del sole, se è veramente, che è veramente quello. È chiaro che, questo che ho detto, implica che il sole, dal suo interno, genera una radiazione, farta di luce, neutrini, che esce fuori. questa radiazione che esce fuori, tenderebbe a far espandere il sole. Perché il sole non si espande allora? Tenderebbe a farlo espandere, perché anche una radiazione ha la sua pressione, e la pressione, in questo caso, esce fuori. Non si espande, a causa della gravità, per fortuna, che invece tenderebbe a comprimerla, sempre di più. Quindi il sole vive in equilibrio, tra queste due opposte tendenze. La gravità che tenderebbe a ridurre questa massa di gas, in un volume sempre più piccolo, sempre più piccolo, e la radiazione nucleare, che si è accesa, a un certo punto, dalla storia del sole, e che qui invece tenderebbe a farlo espandere. Quindi lui se ne sta lì. In equilibrio, sembra tranquillizzante il sole, no? Ma in realtà è, questo equilibrio, frutto di queste due opposte tendenze. Quindi, per farla breve, per capire il sole, dobbiamo osservare i neutrini. Per osservare i neutrini, oscurrono strumenti adatti. Infatti, queste particelle, secondo come le conosciamo, e come sono state postulate, sono particelle che è difficilissimo rivelare. I neutrini passano attraverso la materia, praticamente senza fermarsi. E questo è il motivo, per cui, naturalmente, è difficilissimo rivelarli. Perché, se non li fermi, come fai a misurare che sono passati? Gli strumenti adatti. I neutrini non arrivano da soli, dallo spazio. Insieme ai neutrini arriva la luce, come ho detto, del sole. Ma arrivano anche, da tutto l'universo, particelle. In particolare, arrivano protoni che vengono fuori, da tutte le esplosioni stellari che ci sono state, da tutti i fenomeni di alta energia che ci sono nell'universo. Noi siamo sottoposti, la nostra atmosfera, è sottoposta a un bombardamento di protoni che vengono da tutto l'universo. L'atmosfera ci protegge da questi protoni, ma, in realtà, i protoni, arrivando sull'atmosfera, e quindi incontrando i nuclei, gli atomi di idrogeno, di ossigeno, a sua volta generano una pioggia di particelle secondarie. In fondo, è come quello che succede in una cellula di particelle, dove si sbattono particelle fra di loro e si rompono, in qualche modo, come diciamo, e generano altre particelle. Beh, qui, il cosmo ce lo dà gratis, questo meccanismo. Arrivano protoni in un'atmosfera, questi incontrano gli atomi dell'atmosfera e generano particelle secondarie e qua a loro volta sbattono di nuovo, eccetera, eccetera. Questa pioggia si chiamano i raggi cosmici e questi arrivano su di noi, sulle nostre teste, continuamente. Arrivano particelle cariche continuamente. Se noi volessimo misurare i neutrini, non lo potremmo fare in un ambiente in cui arrivano anche queste altre particelle. Queste altre sono facili da misurare perché sono elettroni, muoni, pioni, sono particelle che hanno carica elettrica, però, e quindi sono molto più facili da misurare. Di fatto sappiamo misurarle molto bene, ma contemporaneamente queste particelle riescono a coprire il segnale eventualmente lasciato dal neutrino che è un segnale molto debole. Tanto per fare un paragone, questo paragone lo si sente dire da Zichichi, per esempio, se voi vorrete sentire una debole nota di violino, non lo potete fare in uno stadio di calcio mentre una nazionale segna un gol, perché è coperto completamente dal rumore di fondo della folla. Ecco, la stessa cosa, il neutrino passa attraverso la materia quasi indisturbato, ogni tanto è rarissimo che qualcuno riesca a essere catturato, ma questo segnale è così debole che non si può percepire in mezzo al fracasso dovuto alle altre particelle dei raggi cosmici. Quindi, in che modo riusciamo a misurarli? Riusciamo a misurarli creando un ombrello dove le altre particelle si fermano ma i neutrini passano. Questo ombrello è una montagna, per esempio. L'esistenza dei laboratori del Gran Sasso, che come diceva Pierluigi Mingarelli ha avuto l'onore di dirigere per sei anni, hanno questa funzione. non so se l'avete visitato vi invito ad andare a visitare è possibile farlo, sono delle grandi gallerie piene, grandi caverne sotterranee piene di esperimenti, perché stanno lì quegli esperimenti? Stanno lì proprio per questo, perché sotto quella montagna i raggi cosmici non arrivano, i raggi cosmici vengono fermati dalla roccia, dai 1400 metri di roccia che sovrastano queste gallerie, quindi al loro interno lì sotto arrivano solo i neutrini. È una condizione di silenzio cosmico che si crea lì sotto, per cui lì sotto mentre i neutrini arrivano praticamente indisturbati, la montagna ne fermerà qualcuno ma in pratica loro arrivano lì sotto, gli altri non arrivano, ecco, quindi si crea una condizione tipo sala alla concerto, il silenzio dove è possibile andare a percepire il piccolissimo segnale lasciato dal neutrino. Naturalmente questo spiega non solo perché esistono i laboratori di Gran Sasso ma perché esistono laboratori sotterranei in tutto il mondo per rivelare i neutrini ma vale la pena, ma è così importante rivelare questi neutrini, perché questi neutrini sono così importanti? Innanzitutto volevo farvi rendere conto, facciamo un piccolo esperimento, volevo farvi rendere conto di quanti neutrini arrivano dal sole. Allora, facciamo il seguente esperimento, prendete tutti quanti la vostra mano e porgete il pollice verso l'alto, facciamo tutti così, pronti? Tutti? Ok, stop! Allora, in quel secondo, potete abbassare le mani, in quel secondo in cui voi avete sposto la vostra unghia del pollice a così, in alto generalmente, dal sole sono arrivati su questa superficie 60 miliardi di neutrini in un secondo, 60 miliardi di neutrini sono passati in un secondo attraverso l'unghia del vostro pollice e continuamente stanno passando, non è che adesso non arrivano più. Naturalmente non l'abbiamo sentiti affatto, ma questo per dire che non è neutrini arrivano ogni tanto, è una pioggia incredibile di neutrini a cui siamo sottoposti, eppure rivelarli è una delle cose più difficili che esistano, è veramente un'impresa. Allora, è importante rivelarli, l'ho detto perché? Tanto per cominciare per capire come funzionano le stelle, ma per capire come funziona il nostro sole, per capire questo motore in realtà quanto tempo durerà ancora, come sta funzionando lui, il motore, non la superficie che emette la luce, una luce già che è vecchia di migliaia di anni. quest'uomo è essenziale in tutto questo, questo è Bruno Pontecorvo, o Bruno Maximovic Pontecorvo, come era noto nell'Unione Sovietica. Naturalmente su quest'uomo se ne sono dette tanti, si sono scritti molti libri, la sua vita, la sua biografia è il Novecento, lui ebreo, nato a Marina di Pisa, in Toscana, ha studiato a Roma con Fermi, Amaldi e un suo compagno e collega, così come Majorana e gli altri ragazzi di Japanisperna, poi decide di andare a lavorare in Francia con Joliot Curie, il marito di Madame Curie, Joliot era comunista, siamo alle soglie della Seconda Guerra Mondiale e lui comincia a propendere ad avere una passione politica, a lui era un giovane giocava a tennis, era un amante della vita, tra l'altro era un bellissimo ragazzo, non aveva difficoltà ad avere anche moltissime compagnie femminili, non sembrava una persona impegnata politicamente ma lì in Francia con Joliot in qualche modo in un periodo storico incredibile naturalmente prende un po' questa coscienza, i nazisti invadono la Francia, lui fa giusto in tempo a fuggire e va diciamo dopo qualche peripezia in Canada, lì naturalmente fa valere quanto valeva, va bene, non voglio fare una biografia di Ponte Corvo però poi dopo il periodo americano, il periodo canadese in cui fa parte anche di progetti che hanno a che fare con l'uso civile e militare dell'energia nucleare ritorna in Europa dopo la guerra, ottiene una cattedra in Inghilterra a Liverpool ma decide di passare la cortina di ferro e quindi di andare nel 1950 in Unione Sovietica. Su questa scelta si è scritto tanto, Miriam Mafai ha scritto un bellissimo libro Il Grande Freddo in cui scrive proprio una biografia di Ponte Corvo e del perché di questa sua scelta naturalmente con il lativo di sgelo poi con l'uso civile in Unione Sovietica. Lui è potuto ritornare in Occidente, ha spiegato un po' tutti i motivi della sua vita ma è rimasto in fondo il dubbio se lui si sia pentito della scelta che ha fatto oppure no. Comunque una persona straordinaria. Ho speso qualche parola su di lui perché quest'anno è il centenario della nascita. Lui nacque nel 1913 e questo centenario verrà celebrato sia a Pisa suo luogo di nascita e in parte di studi sia a Roma naturalmente con dei convegni dedicati. Si sta un po' come dire si sta un po' riscoprendo tutto quello che Ponte Corvo ha fatto ha detto anche perché nel periodo dell'Unione Sovietica non se ne sapeva tanto dei suoi studi c'era il dubbio per esempio che lui avesse dato un aiuto sostanziale all'Unione Sovietica di Stalin nel realizzare anche lì la bomba atomica questo dubbio in realtà non è giustificato perché perché potete andare a vedere il bel libro di Miriam Mafai comunque la cosa importante per il nostro discorso è che Ponte Corvo scoprì come potevano essere misurati i neutrini in particolare i neutrini dal Sole mostro questa slide prima di far vedere il metodo pensato da da Ponte Corvo perché vedete questa fotografia mostra Oscar D'Agostino Emilio Segret Edoardo Amaldi Franco Rasetti di Enrico Fermi non c'è Ettore Maiorana il quale non c'è in questa foto perché frequentava non frequentava il gruppo era un po' diciamo così aveva un po' dei tempi tutti suoi non c'è Ponte Corvo si sapeva bene perché non ci fosse Ponte Corvo lo sapete perché non c'è Ponte Corvo beh posso dire che me l'ha detto lui in persona perché ho fatto in tempo a conoscerlo non c'è Ponte Corvo perché è lui che ha fatto la foto e questo nessuno lo sapeva quando me l'ha detto io ho cominciato a dirlo ma lo sapete che Ponte Corvo lì non c'è perché ha fatto lui la foto davvero davvero si è sparsa finalmente la voce perché è incredibile così non è che dalla Russia lui sapeva e questa foto era così famosa nel mondo guardate l'età di questi ragazzi Oscar D'Agostino 33 anni Emilio Segret 29 Amaldi 26 Frasetti 33 Fermi che era il capo di questo gruppo 33 Ponte Corvo 21 Majorana 28 Ponte Corvo era la mascotte infatti era il giovane del gruppo ma questo gruppo ha fatto la storia questa frase di questo storico della scienza dice il gruppo dei ragazzi di D'Avansperna è stato il primo vero gruppo di ricerca al mondo cioè fino ad allora le ricerche erano portate avanti dall'iniziativa dal genio se volete del singolo ricercatore al limite del singolo ricercatore con il suo assistente ma non veramente da un gruppo di ricerca praticamente che era un gruppo tra pari che collaboravano e contribuivano è bene è bene che noi abbiamo coscienza del fatto che abbiamo avuto grazie a questi ragazzi una scuola che si è formata questa scuola è quella che oggi è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ma non solo perché poi a Malvin dopo quella ha ricostruito tutta la fisica italiana in realtà mettendo diciamo dando contributi e cercando di promuovere tutte le persone che se lo meritavano fatto questo inciso in cui voglio far vedere anche l'età di questa gente è un'età oggi un ragazzo di quell'età come dire se è un precario è già un successo no? e spesso se magari se ne va addirittura fuori allora questo è per dire che le persone non è che possono diventare dei ricercatori o dei professori associati a 40 anni a 50 anni c'è un'età giusta dove si ha una forza propulsiva ed è lì dove bisogna farli fare non è quella l'età dove andare appresso a diciamo a un altro professore e lui stare in seconda fila questa è l'età in cui bisogna stare in prima fila però questo naturalmente implica avere concorsi per poterli assumere e dargli un posto e questo è il problema diciamo un po' del nostro paese soprattutto comunque il metodo che Ponte Corvo aveva pensato era che questi neutrini così come uscivano fuori dal nucleo potevano anche entrarci provocando reazioni nucleari ma se voi provocate una reazione nucleare e aumentate per esempio cambiate un neutrone in un protone o un protone in un neutrone state cambiando l'elemento chimico l'elemento chimico quindi praticamente se voi avete una massa di un certo elemento chimico tutto cloro per esempio o tutto gallio esposti a un flusso di neutrini in un laboratorio sotterraneo naturalmente dove non c'è nessuna altra perturbazione se voi li esponete non so per un mese esponete naturalmente perché come vi ho detto i neutrini arrivano sempre però in un ambiente in cui arrivano solo loro dopo un po' se andate a contare dovete trovare anche dei nuclei di un altro elemento chimico che non c'era prima e questo è dovuto ai neutrini che sono arrivati questo è il metodo che Ponte Corvo aveva trovato grazie a questo metodo Rai Davis per primo in America poi altri esperimenti che faccio vedere adesso hanno misurato i neutrini che vengono dal sole ora se Ponte Corvo non avesse avuto la vita che ha avuto sarebbe stato un premio Nobel sicuro però voi capite che non è che uno nel dopoguerra poteva dare premio Nobel a uno che a un certo punto si era portato dei segreti possibili sulla bomba atomica in Unione Sovietica era un personaggio troppo discusso e secondo me solo a questo è dovuto la mancanza di un riconoscimento a un grandissimo italiano vi faccio presente che qui abbiamo Emilio Segre che è premio Nobel per la scoperta dell'antiprotone Enrico Fermi per la scoperta proprio della disintegrazione dei nuclei atomici Edoardo Amaldi che è il grande ricostruttore della fisica italiana nel dopoguerra Ettore Majorana altro genio assoluto che purtroppo è vissuto troppo poco anche per vedere i frutti del suo lavoro dunque l'esperimento misurava quindi i neutrini dal sole e il metodo è questo che dico si aveva una sostanza pura dopo un mese si contava e si vedeva che c'erano anche altri nuclei atomici di un altro elemento che era proprio quello che il neutrino avrebbe dovuto generare solo che c'era un problema cioè il flusso questo negli anni vedete questo è l'esperimento sotto al gran sasso che usava il gallio negli anni il risultato dava una media che era in realtà la metà di quella che si pensava come se il flusso dei neutrini che arrivavano fosse la metà di quello che invece dovevano arrivare secondo la nostra la nostra la nostra teoria no no parto dopo mistero come la metà ma sarà un caso ma ci sono anche altri esperimenti che l'hanno fatto per esempio in Giappone anche loro il flusso era la metà queste sono unità arbitrarie per dire che doveva essere un flusso unitario nel caso in cui i neutrini arrivavano in quantità che era quella prevista dal nostro modello solare e invece la metà in Russia altro esperimento tutti esperimenti diversi questo qui usava l'acqua per esempio in Russia ha pure questo la metà il mistero dei neutrini mancanti questo è stato un vero mistero poi una volta risolto il mistero diciamo così si è persa anche in memoria che ci fosse magari nel grande pubblico ma il mistero era molto importante perché allora voleva dire che noi forse non avevamo capito come funzionava il sole non è mica una cosa da poco non capire come funziona la stella che ci dà la vita tutti i giorni allora vuole dire che il modello solare che avevamo pensato non è quello ma come mai perché pensavamo invece di averlo capito oppure c'era qualche altra cosa forse il sole si comportava così come pensavamo ma sono i neutrini che sono bizzarri allora e che per qualche motivo strano se ne perde una metà durante il viaggio cioè qual è la soluzione la soluzione naturalmente è stata trovata anche questa da Montecorvo e la sua ipotesi era che i neutrini potessero oscillare a questa voglia grossa che vuol dire che possono oscillare possono oscillare vuol dire che il neutrino per esempio emesso dal processo nucleare era un neutrino di un certo tipo quello che noi pensavamo il frutto delle reazioni nucleari neutrino che chiamiamo E per dire neutrino elettronico il compagno dell'elettrone questo neutrino viaggiando diventava un neutrino di un altro tipo poi diventava se stesso poi di un altro tipo poi di nuovo un UE poi un MU quando arrivava qui al telescopio cioè al rivelatore sotterraneo e beh dipendeva metà quando arrivava qui metà erano per caso ancora neutrini del tipo di quello che era partito metà era diventato un altro tipo il neutrino MU non veniva a interagire con il nucleo e quindi non si sarebbe visto quello passava tranquillamente il rivelatore non era fatto per vedere neutrini MU era fatto per vedere neutrini E allora questa è la soluzione sì signore questa è la soluzione l'ha trovata naturalmente Ponte Corvo anche questo diciamo così due Nobel no uno i neutrini quindi sono particelle che si comportano in modo bizzarro mentre viaggiano si trasformano in un'altra specie poi ritornano se stesse poi in un'altra specie ancora un comportamento molto originale questo dei neutrini si mescolano come si dice queste sono le particelle elementari che noi conosciamo i neutrini fanno la loro bella figura in questa fila qui sono essenziali come particelle conosciamo i quark che sono questi sono quelli del nucleo atomico quelli che compongono i protoni e i neutroni questi sono i neutrini che escono dal nucleo atomico questi sono gli elettroni quelli della corrente elettrica quelli che conosciamo bene quindi questa prima famiglia come si dice è la famiglia più tranquillizzante è quella che conosciamo bene però ce ne sono altre due di famiglie non è che sappiamo perché ma ce ne sono altre due e su queste sono particelle che normalmente non esistono ma che compaiono quando arravengono delle reazioni per esempio un protone di alta energia che arriva a impatto con l'atmosfera per esempio negli acceleratori di particelle vengono generate particelle che si compongono di queste altre ma queste sono quelle che noi conosciamo del nostro mondo che sono quelle come dire familiari poi ci sono altre particelle che sono i mediatori delle forze cioè le cariche elettriche si scambiano fotoni le cariche forti all'interno del protone i quarks si scambiano questi gluoni cosiddetti e le reazioni elettrodeboli si scambiano queste altre particelle quindi sono è un'altra famiglia ancora di bosoni come si dice i neutrini sono stati indagati in tanti posti a Gran Sasso in particolare è veramente un laboratorio che è stato dedicato in maniera particolare ai neutrini non solo anche materia oscura e altre cose si fanno ma se ai neutrini si è voluto andare a indagare per bene questa oscillazione in modo controllato cioè anziché affidarsi a una sorgente naturale il sole si dice costruiamo una sorgente noi di neutrini di un certo tipo ben preciso quei neutrini li facciamo viaggiare per un certo tratto cioè gli diamo modo di trasformarsi e poi andiamo a vedere all'arrivo che cosa arriva se arriva quello che è partito o se arriva un'altra cosa questo è stato fatto a Ginevra è stato costruito una specie di canna di fucile diciamo così c'è un acceleratore in cui le particelle vanno a sbattere contro una certa sorgente generano muoni e neutrini ma i neutroni i muoni vengono fermati e quindi alla fine c'è solamente un sottile filo di neutrini che viene sparato nella direzione del Gran Sasso per fare questo naturalmente passa sottoterra è il famoso tunnel della Gelmini che non c'è perché i neutrini non hanno bisogno di un tunnel che li guidi non vengono attenuati dalla materia ma è divertente questa faccenda comunque i neutrini partono da Ginevra e dopo 732 km arrivano sotto le caverne del Gran Sasso che cosa arriva qui? qui partono solamente i neutrini mu si è voluto fare una cosa molto precisa i neutrini mu solamente e si deve vedere qui l'apparizione di neutrini tau cioè neutrini che non sono quelli del sole quindi è un'altra cosa ma proprio in maniera controllata per capire bene se Ponte Corvo aveva visto beh è giusto oppure no questo è il dettaglio del viaggio dei neutrini vedete che Annibale e Napoleone sono passati sopra le Alpi i neutrini dalla Svizzera hanno invaso da sotto le Alpi questa è una collaborazione opera li faccio vedere tutti con l'elmetto per le condizioni di sicurezza che devono esserci in un laboratorio sotterraneo e questo è l'esperimento opera appunto che ha misurato l'apparizione quindi di questi neutrini di neutrini tipo tau abbiamo capito perché hanno visto l'apparizione di questi neutrini tau abbiamo capito effettivamente che i neutrini funzionano così quindi possiamo essere tranquilli che abbiamo capito come funziona il sole come funzionano le stelle è un passo avanti molto importante sia concettuale sia diceva l'onore dell'uomo essere riusciti a comprendere il meccanismo della stella che ci illumina la stella è il nostro sole come vedete è un gigante rispetto a queste pietruzze che sono i pianeti del sistema solare è un gigante fatto di gas questo gas è l'idrogeno quello più diffuso nell'universo questo qui si condensa per gravità spinge in un volume sempre più piccolo questo gas quindi preme questa pressione genera una temperatura fortissima altissima all'interno a un certo punto come se fosse una bajur questo oggetto si accende si accende perché si innesca la fusione del monocleare e questa stella si accende dando luce a tutto quello che lo circonda naturalmente il sole è solo una delle stelle a noi sembra così grande ma vedete che è un nano rispetto ad altre stelle come Polluce e Arturo lo stesso Arturo che sembra gigantesco rispetto al sole poi è piccolino rispetto a altri mostri come Beltejo Santares eccetera queste stelle generano al suo interno tutti gli elementi durante la fusione nucleare elio, carbonio, zoto, ossigeno che di per sé non esisterebbero nell'universo vengono formati vengono generati all'interno delle stelle che sono quindi delle fabbriche fabbriche degli elementi esisterebbe solo l'idrogeno se non ci fossero le stelle la gravità forma le stelle e le stelle formano tutti gli elementi ulteriori gli elementi che compongono anche noi ed è solo perché alla fine dell'esistenza quando la fusione oramai è terminata è arrivata al ferro a comporre il ferro il ferro è l'ultimo degli elementi che si può comporre guadagnandoci diciamo dopodiché non si guadagna più la stella si ferma quindi come se la fabbrica spegnesse la luce improvvisamente a quel punto la gravità non ha più il contrasto della radiazione che esce quindi la gravità vince la stella collassa in una frazione di secondo rimbalza contro il nocciolo duro di ferro e tutto quello che ha prodotto esplode intorno questa è l'ultima supernova che abbiamo potuto vedere non noi ma nell'altro emisfero quasi a occhio nudo nell'87 questa invece è il residuo di una supernova esplosa nel 1054 che è stata osservata da astronomi cinesi questa vedete è ancora una supernova ma che è stata esplosa ancora prima vedete questo è una specie di polline cioè è una fertilizzazione che le stelle fanno mandando in giro i prodotti composti al suo interno è grazie a questo che esistiamo noi noi siamo fatti di carbonio di azoto d'ossigeno di tanti elementi essenziali il carbonio poi essenziale per la nostra vita se non ci fossero le stelle ad averle prodotti noi non esisteremmo noi siamo fatti di pezzi di stelle siamo figli delle stelle letteralmente e questo che è un po' come dire arrivando alla fine di questa chiacchierata questa è un'immagine dell'universo dal Big Bang ai giorni nostri possiamo dire dalla zuppa di particelle elementari che esistevano inizialmente quando poi è scattato il meccanismo di Higgs le particelle hanno acquistato massa che prima non ce l'avevano si sono differenziate sono nate i protoni i neutroni qui si era abbastanza freddi per formare gli atomi cioè i protoni ed elettroni si legavano negli atomi di idrogeno è diventato neutro a questo punto l'universo e quindi la luce ha potuto propagarsi e quindi da questo punto in poi qui c'è quella che si chiama la radiazione di fondo cosmico cioè noi guardando indietro vediamo questo sipario e da qui cerchiamo di capire quello che c'è stato prima ma più in là di così non possiamo vedere però questo sipario è quando l'universo aveva già 300 300 mila anni comunque ai giorni nostri ci siamo arrivati ma un mistero c'è ancora qua c'è qui quello che si è generato sono particelle ogni volta che noi cerchiamo di rifare un big bang in miniatura e cioè mandiamo a sbattere particelle fra di loro trasformiamo energia in materia la materia che esce fuori è sempre di due tipi materia e antimateria l'antimateria non è altro che la materia con il segno della carica opposto quindi come c'è il protone positivo c'è il protone negativo che chiamiamo antiprotone è una particella che si può produrre al CERN si produce tranquillamente anche i raggi cosmici la producono queste particelle vivono per poco tempo perché si annichilano non appena incontrano la materia quindi mentre l'antimateria è stabile intorno a noi mentre la materia è stabile intorno a noi ne siamo fatte anche noi l'antimateria qui e lì viene generata ma subito scompare e così è come siamo fatti noi così come vediamo che è fatto anche l'universo sappiamo che un astronauta è andato sulla luna non si è annichilito questo vuol dire che la luna è fatta di materia e non di antimateria così come è fatto a Giove su cui abbiamo mandato anche delle sonde vediamo che le galassie quando si incontrano quelle che si incontrano non generano quell'annichilazione che darebbe luogo a un fuoco d'artificio incredibile quindi riteniamo che l'universo sia fatto solo di materia ma questo è un mistero perché essendo questo un atto in cui energia è stata trasformata in materia qui doveva esserci tanta materia quanta antimateria perché invece non è così oggi che fine ha fatto l'antimateria che avrebbe dovuto essere generata all'inizio in pari quantità rispetto alla materia questo è uno dei misteri più affascinanti una delle soluzioni quella a cui credono devo dire la maggior parte dei miei colleghi è legata alla natura del neutrino quindi il neutrino potrebbe essere la chiave del perché noi esistiamo perché il neutrino che cos'è un neutrino? il neutrino potrebbe essere una specie di camaleonte cioè il neutrino abbiamo visto che oscilla però quando oscilla sempre materia rimane neutrino E neutrino Mu però oltre a questo oltre a questo comportamento potrebbe averne un altro cioè potrebbe essere la particella il neutrino che è anche antiparticella di se stesso potrebbe avere questa doppia natura particella e antiparticella per le altre non è così ma per le Ui potrebbe essere questo la chiave per capire che cosa è successo perché allora questa particella che è contemporaneamente materia e antimateria nello scontro iniziale del Big Bang in cui la materia e l'antimateria sono state generate in pari quantità ma si sono annichilite tutte ma in quel momento il neutrino che poteva giocare diciamo così con entrambe le squadre e che poteva fluttuare di natura giocando con entrambe le squadre ha fatto prevalere una rispetto all'altra ma di un fattore uno su un miliardo di particelle si è salvata da questo scontro titanico degli inizi questo scontro titanico che ha visto la prevalenza di uno dei due tipi quello che noi oggi chiamiamo materia sull'antimateria questo è quello che noi oggi chiamiamo il cosmo questo residuo che si è salvato dalla esplosione iniziale allora e su questo si fanno esperimenti naturalmente anche al Gran Sasso per capire se è vero cioè se il neutrino è o no l'antiparticella di se stesso questo potrebbe spiegare come mai l'universo esiste allora abbiamo fatto una chiacchierata partendo da Darwin e quindi dal mistero di quanto tempo aveva il sole abbiamo capito che il sole ha un motore termonucleare quest'uomo ha capito come misurare i neutrini anche come interpretare i risultati questo è un neutrino preso in un giorno in cui lo siamo riusciti a fotografare e abbiamo parlato anche naturalmente del Big Bang di come mai esiste un universo quando qui avrebbe solo dovuto esserci materie e antimaterie che ridiventavano pura energia e quindi niente più forse il neutrino è la spiegazione dopo questa chiacchierata questo è il neutrino caduto per terra dopo questa chiacchierata vorrei terminare con un con quattro righe che mi sono sempre piaciute di T.S. Eliot che un po' dicono che forse non abbiamo concluso niente studiando queste cose però non cesseremo dall'esplorare e la fine della nostra esplorazione sarà tornare da dove siamo partiti e conoscere il posto per la prima volta grazie per l'attenzione se avete domande sono qua qui ci sono posso fare la domanda buonasera volevo sapere a proposito del laboratorio del Gran Sasso chiaramente la montagna scherma dei raggi cosmici ma come fate a togliere dal gioco le radiazioni provenienti dal decadimento dei materiali tellurici radon eccetera ottima domanda allora innanzitutto la roccia del Gran Sasso è poco radioattiva quasi 10 volte meno radioattiva di quella delle Alpi per esempio quindi una condizione abbastanza fortunata nonostante questo ci sono nuclei di uranio torio potassio naturalmente ci sono elementi radioattivi residui che dobbiamo schermare lo schermo è uno schermo degli esperimenti quindi ogni esperimento ha il suo proprio schermo che normalmente è fatto di piombo che è un materiale che si capisce molto denso e quindi adatto a schermare naturalmente lei mi potrebbe dire pure il piombo può essere radioattivo è qua io la ringrazierei per la domanda che mi dà modo di dare una bella risposta la risposta è questa ed è vero il piombo è radioattivo naturalmente uno può andare a cercare di quello poco radioattivo facendo delle prove delle misure se ci si pensa bene quello meno radioattivo potrebbe essere quello che è rimasto protetto dai raggi cosmici perché i raggi cosmici hanno anche questo fatto di ovviamente continuamente attivare i materiali e quindi renderli radioattivi a loro volta allora c'è stato un colpo fortunato e cioè circa una 20-25 anni fa a largo della Sardegna all'argo di Oristano fu portata in superficie una nave romana che faceva la spola tra la Spagna e la Sardegna che era un centro di smistamento il piombo era molto prezioso per gli antichi romani tutte le condutture si facevano di piombo per esempio e il piombo veniva prodotto in Spagna in una certa miniera con dei mattoni che pesavano 30 chili perché era il massimo peso che poteva portare uno schiavo ovviamente portandolo su una nave se voi lo sollevate oggi vi rendete conto che gli uomini di una volta dovevano essere più robusti perché pesa un sacco c'ha un bellissimo marchio appunto romano su ognuno di questi questi qui sono questo questo galeone romano è affondato e per circa 2000 anni questo questo piombo è rimasto a 2000 metri di profondità quindi cosa vuol dire è rimasto protetto dai raggi cosmici è un materiale molto prezioso quando è stato portato in superficie una parte è andata alla locale diciamo ai beni culturali della Sardegna ma una parte è stata presa e portata immediatamente al riparo sotto il Gran Sasso questo piombo che è noto come piombo romano è noto in tutto il mondo e ce lo chiedono tutti perché è un piombo talmente poco radiattivo che è l'ideale per poter schermare gli esperimenti questo piombo romano ce l'abbiamo ce l'abbiamo solo noi e se fate una visita al Polo di Gran Sasso non dimenticate di chiedere di farvi vedere il mattone di piombo romano grazie salve ha detto che appunto il neutrino può oscillare da una forma all'altra elettronica muonica tauonica e c'è un modo relativamente semplice in cui ce lo può spiegare come avviene e appunto non l'ha detto perché è un argomento troppo difficile da affrontare beh diciamo è come se la sua natura fosse contemporaneamente di essere elettrone muone tau quindi è come una cosa che tu mentre viaggia si gira e tu la vedi in un modo poi la vedi in un altro poi la vedi in una luce è sempre lui però si mostra alla misura in modi diversi a mano a mano che che viaggia però di per sé la sua natura è una parte di neutrino elettronico una parte di neutrino umorico una parte di neutrino tau questo mescolamento dei neutrini o oscillazione se la vedi mentre viaggia è una diciamo dei misteri che accompagnano i neutrini è uno dei motivi per cui sono particelle chiave diciamo così per capire come sono fatte le luci della natura è una massa diversa il tipo di neutrino oppure la differenza è questa è una delle cose che ancora non sappiamo cioè la massa del neutrino è sicuramente molto piccola sicuramente non è zero perché se fosse zero no tu dici così ma non è ovvio che non è zero il fatto che non sapete perché la massa dei neutrini sappiamo che non è zero la cosa è si spiega in un modo che quando l'ho detto la prima volta la gente è rimasta sbalordita per cui voglio vedere se di maniera sbalordita pure voi secondo la teoria della relatività quando una particella viaggia a velocità molto elevate può cambiare il modo con cui percepisce il tempo una particella più viaggia veloce e più il tempo trascorre lentamente per la particella noi lo vediamo per esempio con certi decadimenti c'è una particella come il pione che ha un tempo di decadimento ben preciso dato il tempo di decadimento lui dovrebbe fare un tratto e poi trasformarsi in un'altra invece fa un tratto molto più lungo perché per lui il tempo si dilata se una particella va alla velocità della luce il tempo non trascorre si ferma il fotone è eterno è un'immagine di se stesso come se fosse una fotografia se andate alla velocità della luce il tempo non passa più ma solo se non avete massa potete andare alla velocità della luce allora il fatto che il neutrino si trasforma vuol dire che il tempo cambia per lui se no non potrebbe cambiare e quindi se il tempo passa per lui comunque vuol dire che la sua massa non è zero e la sua velocità non è quella della luce questo è il motivo per cui il neutrino deve avere una massa ma è così piccola che ancora si sta cercando con te io invece volevo sapere come fate voi fisici a selezionare i neutrini che derivano dal sole dai neutrini che derivano dall'esplosione delle supernove questa è un'altra bella domanda diciamo che le energie in questione sono diverse i neutrini che vengono dal sole hanno energie più basse e inoltre alcuni derivatori sono direzionali e si capisce se è il neutrino solare dalla direzione che ha perché deve puntare sul sole ma i neutrini della supernove hanno un'energia più elevata di quelle dei neutrini solari per cui le reazioni chimiche sono le stesse cioè no perché le basche di salato di acqua viene prodotto in stagno ci sono varie tecniche di misura dei neutrini alcune implicano l'acqua altre implicano dei materiali scintillatori e altri dei materiali radiochimici in cui si va a misurare l'elemento diverso rispetto a quello che c'era prima sono metodologie diverse ma per fortuna danno risultati concordanti però l'energia delle supernove è un'energia che è diversa e più elevata rispetto a quella dei neutrini del sole va bene forse ah ecco un'altra domanda giusto per tenere svegli svegli il discorso è che il sole ha una certa riserva di carburante la fusione nucleare lei ha parlato quando finisce questa riserva si arriva al ferro che non si utilizza più e quindi la gravità farà diciamo collassare il sole ecco a parte c'è da fare una distinzione tra le stelle come il sole e le stelle con almeno otto volte la massa solare che hanno vita molto più breve diciamo sono le cosiddette supernove ma quando finisce diciamo il carburante solare il sole si trasformerà in una nana bianca in una gigante rossa o in tutte e due le cose allora questa domanda ma anche il fatto che siete rimasti praticamente quasi tutti mi fa fare un passo in più a questo punto che è questo quando dice il carburante in realtà sono vari carburanti il carburante iniziale è l'idrogeno quindi si comincia a bruciare idrogeno producendo elio a un certo punto l'idrogeno comincia a scarseggiare la stella se il carburante scarseggia vuol dire che c'ha meno radiazione che esce la stella si comincia a contrarre contraendosi però fa aumentare la temperatura ancora di più e riesce a questo punto a far avvicinare gli atomi gli nuclei di elio l'elio c'ha due protoni nel nucleo quindi far avvicinare due nuclei di elio è più difficile che far avvicinare due nuclei di idrogeno ci vuole una temperatura più alta ma quella temperatura più alta la crea la stella contraendosi come risultato della mancanza dell'idrogeno a questo punto però si innesca la fusione dell'elio che è una fusione molto più efficiente più potente di quella dell'idrogeno quindi quando si rinnesca questa fusione improvvisamente la stella riaccende ma utilizzando l'elio come carburante stavolta e si rigonfia un'altra volta perché a questo punto è la radiazione che vince sulla gravità fino ad avere una nuova posizione di equilibrio è come un braccio di ferro a un certo punto è come se nel momento in cui scatta l'elio diciamo la fusione si può perdendo rispetto alla gravità ma poi arriva l'elio allora quella si rianima e riesce a portarlo a una nuova posizione di equilibrio in questa posizione di equilibrio nuova la stella è molto più grande è molto più grande siccome la superficie è molto più grande la superficie di scambio con il resto del vuoto freddo la superficie si arrossa il che vuol dire che si abbassa l'energia che l'energia rossa è più bassa dell'energia gialla diciamo nella radiazione luminosa e quindi diventano delle giganti rosse non so se avete sentito parlare infatti queste stelle gigantesche sono arrossate come delle arance diciamo proprio perché sono in questa fase in questa fase che sono gigantesche se il sole arriverà a questa fase quando ci arriverà ingloberà l'orbita terrestre e quindi noi come ho detto anche nella mia relazione di ieri a quel punto avremmo dovuto lasciare questo pianeta come solo la prima delle nostre case come genere umano per acquistarne un'altra non si sa dove a questa successiva fusione dell'elio poi se ne innescano quelle successive cioè è come se ci fosse un respiro della stella e ogni volta il carburante principale cambia e se ne si innesca un altro tra l'altro la fusione dell'elio è quella che genera il carbonio tre atomi di elio fanno nascere tanti atomi di carbonio che è molto importante per noi che sia così formando via via tutti gli elementi si arriva al ferro il ferro è l'ultimo oltre al ferro la reazione non è più una reazione che guadagna energia cioè che che rilascia energia e quindi a quel punto si ferma il motivo per cui c'è tanto ferro nei pianeti ma sulla terra anche è perché è lo stadio finale il ferro a quel punto una volta che si ferma veramente il carburante è proprio finito stavolta e la stella spegne questa fucina questa radiazione la gravità fa in modo che tutta la stella collassa su questo nucleo centrale collassando è il momento in cui riesce a dare quell'energia in più per poter formare i nuclei più pesanti del ferro e quindi per esempio l'oro l'uranio come ho detto ieri chiunque abbia un pezzetto d'oro con sé quello è stato formato nel momento del collasso è un momento che è durato un millisecondo l'oro si è formato è generato in un millisecondo mentre il ferro ci ha avuto milioni di anni per formarsi l'oro no è un frutto proprio come dire fortuito momentaneo così come l'uranio tutti questi elementi più pesanti del ferro col collasso naturalmente c'è questo rimbalzo che gli antichi vedevano una stella nuova a formarsi la chiamavano la nova non la chiamavano la supernova il nome è dovuto a questo fatto che diventa immediatamente molto luminosa anche lì dove non si vedeva niente si vede improvvisamente una cosa luminosa che poi piano piano si spegne perché ovviamente la stella comincia a perdere l'energia questo collasso però insomma come funziona il carburante di una stella il meccanismo è questo per le stelle più pesanti per le stelle meno pesanti quelle invece si spengono come dei tizoni e sono dei tizoni che diciamo senza storia particolare lì dove c'è la stella grande invece può formarsi una stella di neutroni o addirittura un buco nero ma questo ci vorrebbe un'altra conferenza grazie prego grazie